Per un anno ha vissuto in questo spogliatoio, una brandina, la scrivania e il bagno, pochi metri alle spalle del campo di calcio, per lui quasi una reggia. La storia di Leandro Barbieri, 54 anni, originario di Firenze, è una di quelle che ci piace raccontare. L'ospitalità della storica società sportiva d'Erviese gli ha permesso di ripartire. Ha trovato un lavoro a Colico e presto lascerà lo spogliatoio della polisportiva per una casa tutta sua. Ma il grazie a chi lo ha aiutato non sarà mai abbastanza grande. È successo che alcune persone, sapendo che io dormivo in un'auto e tra l'altro era alle soglie dell'inverno, hanno deciso di potermi aiutare, dandomi quel poco che potevano darmi, che per me è una cosa enorme. Queste persone sono i dirigenti della D'Erviese? Sì, OSD, Colico D'Erviese, varie persone che si sono movimentate per poter far sì che, anche per trovarmi un lavoro, che cos'è che ho trovato adesso da un mese a questa parte. Sto lavorando e spero di poter continuare dopo un contratto di tre mesi che al momento ho e spero che proseguo anche in seguito. Presto lascerà anche questi spazi per andare a vivere da solo, in una casa sua, pagandosi regolarmente un affitto. L'hanno aiutato anche in questo? Certo, mi stanno aiutando e visto e considerato che, ancora non avendo percepito uno stipendio, vorrebbero loro pagarmi a meno i primi affitti per poi, logicamente e giustamente, piano piano restituirò ciò che mi è stato dato. Leandro, lei adesso sta lavorando ma alle quattro e mezza tutti i giorni Cascasse il Mondo viene qui per andare a prendere i suoi ragazzi, continua a guidare il pulmino della D'Erviese? Certo, lo faccio più che volentieri. Adesso si riparte, un lavoro nuovo, una casa nuova e tanto affetto però nei confronti di D'Ervio che l'ha aiutata anche l'amministrazione, anche il sindaco. Sì, il sindaco ha fatto nel suo piccolo che potesse fare, chiaramente non è che abbia la bacchetta magica neanche lui, però mi ha consentito un lavoro durante quest'estate, mi ha chiesto di fare anche altri servizi extra e io li ho fiatti più che volentieri e io ben felice di lavorare perché era solo quello che stavo aspettando. L'alcolico D'Erviese però resta la sua casa? Certo, perché si meritano ciò, sono persone che non so come poterle definire, sono persone che praticamente mi hanno dato tutto.